Sette province tra le prime dieci si collocano a nord-est e la new entry è proprio Treviso, decima grazie a un balzo in avanti di 19 posizioni che deve all'emancipazione delle donne e alle politiche per ridurre la disparità di genere. La classifica della qualità della vita, stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, premia la marca grazie ai nuovi parametri introdotti tra i 90 indicatori presi in considerazione. Prima in Italia dunque Treviso per qualità della vita delle donne. Questa è una grande soddisfazione che paga lavori partiti da lontano. Io penso che tutto trovi lo start-up, la partenza, da quando gli enti pubblici sono chiamati a stilare i piani di azioni positivi per la questione di pari opportunità. Quando arrivano questi risultati significa che la strada intrapresa è quella giusta sulla quale comunque c'è ancora molto da fare. Politiche delle grandi e piccole cose, quelle che le amministrazioni stanno mettendo in campo in questo senso. Oggi c'è il tema del rispetto della donna, per esempio il tema dei femminicidi. Ci sono tanti temi da affrontare. I temi dei padri separati che non hanno magari diritto a vedere i propri figli nel momento in cui le famiglie si rompono. Ce ne sono questioni di genere sia da una parte che dall'altra. Nel confronto e nel dialogo si trovano le occasioni migliori e le soluzioni migliori per appianare questa che non dovrebbe essere una questione in una società civile. Treviso undicesima per qualità della vita dei bambini. Di contro solo centocinquesima ed è questo il dato più negativo per presenza di librerie. Rimane positivo l'indice della criminalità con la marca Quartultima in Italia per numero di denunce ogni 100.000 abitanti. Provincie che devono tornare a essere dei punti di riferimento anche istituzionali, conclude Marcon, a pochi giorni dal rinnovo di Presidente e Consiglio. Bisogna tornare a dare la possibilità ai cittadini di esprimersi. Anche questo è un criterio democratico che potrebbe consentirci di fare ancora qualche passo in avanti quando parliamo di qualità della vita. Grazie a tutti.